e andiamo da Salvatore Garzillo che si trova a Kiev. Salvatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ho scelto Kiev, stamattina si è svegliata al terzo giorno, dopo tre giorni di coprifuoco. Ho scelto questo posto, un palazzo in alto, al centro di Piazza Maedan, perché Piazza Maedan non è soltanto un logo simbolo di questa guerra e di questo momento, dei prossimi passaggi, delle prossime battaglie, ma un logo simbolo perché proprio da una prospettiva come questa, nel 2014 si sono combattute quelle battaglie in strada, nella piazza, e da quel palazzo lì in fondo, che vedete in alto, c'erano i cecchini che sparavano sui manifestanti. Qui invece, a quel punto lì, c'è il memoriale che racconta la storia e la memoria di tanti cittadini ucraini che sono morti già nel 2014, perché ricordiamolo, questa guerra non comincia il 24 febbraio scorso, ma inizia nel 2014. Kiev in questo momento si sentono delle esplosioni, stamattina a più o meno 8-9 chilometri dal centro, fino a qualche secondo fa c'erano delle esplosioni, dei boati, non riusciamo bene a localizzarli. Tra qualche minuto noi usciremo, scenderemo in strada per andare a verificare il luogo di questi nuovi bombardamenti, di questi nuovi combattimenti che ci sono stati nella zona nord della città. È una città che comunque, ieri ho preso il treno per arrivare qui da Lviv, ed era un treno pieno, pieno di persone. Non ce lo immaginavamo, pensavamo che la città fosse soltanto un luogo da cui scappare. In realtà c'è tanta gente che rientra a Kiev perché ci sono anche delle attività che devono riprendere, ci sono persone che hanno lasciato tutto qui e tentano il tutto per tutto di recuperarle perché sentono che questi potrebbero essere gli ultimi giorni prima della tempesta finale. Grazie.